E' un'altra parte. Soprattutto i cowboy. Americano. Sì, New York. Poliziotto. Sì. Farò un bel botto. Come hai fatto a capirlo? Non ho faccia d'avvocato. Jack! Papà! Eh, questo che fai? Lo 007 di Plainfield, New Jersey? Rilassati, sei a sicuro. Atterra! Al sicuro un corno. Quel tipo significa guai. Terrorismo. Uranio arricchito. Armi nucleari. Qualcuno deve fermarlo. Forza, campione. No! Don, don! Wow. Cos'è un archibugio? E' un po' vintage. Come te. Giusto. Mi sa che l'hai già fatto, vero? Non incoraggiarlo. Io e il mio ragazzo ti faremo sputare sangue. Davvero? Davvero. Ma sei matto? Un pochino. Sei tu che vai in cerca di guai o loro che ti perseguitano? Me la faccio sempre anch'io questa domanda.